Goll importante quello del 2-2? Sì, sicuramente un grande gol che ci ha aiutato a portare la partita verso di noi che poi ci ha permesso di vincere. Comunque non era facile in primo tempo sotto i due gol però abbiamo avuto veramente una reazione da vera squadra e da grande gruppo. Questo primo gol c'è una dedica particolare? Sì, sicuramente. Per mia moglie che è incinta di otto mesi aspettiamo una femminuccia. Sei tornato, sei rientrato in squadra già da quattro partite e oggi è arrivata anche questa rete. È cambiato tutto per te nell'ultimo mese? Sicuramente aspettavo questo momento da tanto e come dicevo anche prima nelle interviste passate che appena hai la possibilità di scendere in campo devi dimostrare partita per partita che il posto è tuo e che nessuno se lo deve prendere. Anzi, facendo gol è ancora più bello e una soddisfazione maggiore. Senti Gennaro, ritrovarsi sotto dopo circa 35 minuti di due gol che cosa avete pensato su due episodi, due calci da fermo? Sicuramente non era facile poi specialmente qui a Salerno contro la Salernitana andando sotto di due gol non è mai facile rimontare la partita però come dicevo dopo il gol di Leo del primo tempo che quello comunque ci ha dato una grossa mano nello spogliatore del primo e secondo tempo ci siamo parlati e siamo venuti fuori. Questa è la prova che veramente questa è una grande squadra ma più di una grande squadra è un grande gruppo. Ne parlavamo anche qualche istante fa con il tuo compagno di squadra Mancuso, avete risposto a delle critiche probabilmente ingenerose con queste due vittorie meritate con Venezia e soprattutto oggi con la Salernitana. Diciamo che le critiche fanno parte del calcio quando purtroppo non si riesce a vincere le partite le critiche ci stanno ma le critiche devono essere costruttive critiche che noi giocatori dobbiamo accettare e poi quando c'è l'occasione sul campo dobbiamo dimostrare che chi magari ha parlato male di noi tra virgolette in quel momento si sbagliava e noi dobbiamo solo rispondere sul campo che risultate. Senti Gennaro, vi è stato annullato un gol realizzato da Grevion, sarebbe stato il 2-2 è stato fischiato un fallo a te? Sì, io su Bocalonne però c'è stata una spinta di un giocatore della Salernitana ai miei danni io sono andato su Bocalonne quindi c'è prima fallo su di me che poi su Bocalonne però purtroppo l'ambito ha fischiato e è andato così. Cosa significa per il Pescara chiudere il girone d'andata a 32 punti? Un bottino inimmaginabile all'inizio della stagione? Sicuramente nessuno all'inizio immaginava un Pescara così in alto in classifica però ti ripeto, noi dobbiamo pensare partita per partita e dimostrare che siamo una grande squadra come anche all'inizio noi sapevamo di essere una buona squadra, un grande gruppo è fatta di giocatori importanti e solo il campo può dire questo Pescara dove può arrivare noi siamo contentissimi di chiudere l'anno a 32 punti speriamo di iniziare il 2019 ancora meglio. Tornando al tuo gol l'hai toccata poco prima della linea o proprio sulla linea? Secondo me proprio sulla linea la palla stava entrando io sono arrivato in velocità e l'ho con la suola anche col destro. Vittoria, scusami, vittoria da dedicare per quanto ti riguarda a tua moglie per l'arrivo della prossima bambina e anche ai tifosi che sotto la curva avete salutato mi sembra di aver visto che lanciavi un pantaloncino ai tifosi del Pescara. Sicuramente la vittoria la dedichiamo ai tifosi che anche oggi ci hanno seguito numerosissimi e ci danno sempre una grossa mano il gol lo dedico a mia moglie che l'aspettava da otto mesi e un altro po' la bambina nasceva e quindi sono molto contento. Gennaro, davvero l'ultima è tempo di auguri, no? Sicuramente io faccio gli auguri a tutti i tifosi del Pescara un fine anno bellissimo anche perché con questa vittoria sicuramente gliela dedichiamo e iniziare il 2019 è ancora migliore.